se questo è un leader si parla di giuseppe conte da poco a capo della sempre più sgangherata improbabile pattuglia grillina e si torna a parlare di lui per il clamoroso retroscena vergato da luigi bisignani su il tempo di oggi domenica primo agosto dobbiamo tornare all'incontro che si è tenuto all'inizio della settimana tra conte e il suo successore mario draghi il vertice a palazzo chigi per trovare una mediazione sulla riforma della giustizia e nel suo intervento bisignani scrive strombazzato da media e social era in agenda il primo face to face tra super mario e giuseppe il quale rimetteva finalmente piede in quelle stanze in quei corridoi sui quali per mesi le telecamere dei tg lo hanno ripreso dunque l'uomo che sussurra i potenti sottolinea i giornali hanno riportato che per sembrare riservato il premier defenestrato è entrato dal portone secondario varcata la soglia il piglio azzimato e sicuro di sempre è pomposamente tornato a galla sgonfiandosi tuttavia subito dopo aver registrato che il premier in carica gli aveva dato udienza come confermano i testimoni per appena 15 minuti al contrario di quanto raccontato dalle cronache grilline l'ex avvocato degli italiani non ha affatto sbattuto i pugni sul tavolo ma ha dato subito il suo appoggio come peraltro confermato dai fatti alla riforma cartabia e già tanto basterebbe per far sprofondare il presunto avvocato del popolo nel più profondo imbarazzo peccato che il meglio debba ancora venire e questo meglio ce lo offre ancora bisignani ma qui il cupè di teatre frutto sembra di una trovata di rocco casalino uscendo dall'incontro il cittadino onorario di volturara appula pare abbia chiesto sommessamente al padrone di casa che è rimasto basito se poteva usufruire di un salottino riservato per fare delle telefonate urgenti a chi grazie a tutti